Bene cari amici, buonasera, è il 26 aprile 2017, sono le 18.30, siamo in via Troccoli al quartiere San Paolo, perché? Allora, guardate, tutta questa roba, allora che cosa è successo? Stamattina erano le 8.30, quando vedo un signore che sta lasciando, sta depositando questa roba per terra. Allora, mentre mi avvicino col telefonino, per riprendere il tutto, il signore dice, e così scendi direttamente, vedi che ho chiamato all'AMIU. Allora, io gli ricordo, signore, ma vede che se lei ha chiamato all'AMIU, avrà avuto il numerino, il codice, il quale lei dovrà metterlo vicino a questa roba. E gli dice, sì, sì, ce l'ho in macchina, questo signore stava con un furgone, ce l'ho in macchina, poi lo metterò. E io vi dico, ma signore, però comunque mi sembra un po' strano che l'AMIU abbia accettato tutta questa roba, in quanto ricordiamo che l'AMIU ritira gli ingrombanti gratis, fino a tre pezzi smontati. Ma lui mi dice, no, ma questo è un divano, sai, l'ho smontato io. Ma qui siamo forse ben oltre un divano smontato, ma comunque abbiamo del cartongesso, questi binari in ferro dolce, abbiamo anche un radiatore in ferro, in acciaio. Allora, praticamente, questo signore, è vero che io l'ho già capito che stamattina mi stavo prendendo per il culo, ma il problema è che prende per il culo a lui stesso, perché qui non ci sono gli stronzi. Io non ho le fette di prosciutto davanti agli occhi. Bene, tutto questo è sempre in una bari per bene, è un'inciviltà totale, ma in questo punto ogni settimana o c'è un divano, o c'è una cucina, o c'è un letto, c'è un matarazzo, qui c'è sempre qualcosa. Tutto questo perché, ricordiamo sempre, per essere paranoico, per dire le stesse cose, soltanto quattro ispettori ambientali per tutta la città. E ce li dobbiamo tenere, ragazzi.